Buongiorno, mi chiamo Elena Favro e sono biocostellatrice consulente delle 5 leggi biologiche. Mi occupo da tanto tempo di albero genealogico e di transgenerazionale e volevo portare quello che era la mia esperienza dopo aver conosciuto Jesus e davvero per me è stato un qualcosa di molto importante perché di corsi ne ho fatti tantissimi evidentemente nel corso degli anni ma l'approccio terapeutico che propone Jesus è un qualcosa che davvero mi porta uno strumento che ancora non avevo ma che trovo davvero il punto di svolta nel senso che le mappe che conoscevo prima nel senso della decodifica dei sintomi piuttosto che l'analisi dell'albero genealogico del transgenerazionale mi portavano ricchissime informazioni mi davano sicuramente una strada da percorrere dove poter portare l'indagine ma attraverso l'ipnosi regressiva si acquisisce uno strumento proprio per andare a lavorare nel conflitto programmante che appunto risiede nell'inconscio e trovo questo di una portata spettacolare per cui assolutamente consiglio consiglio Jesus che è una persona meravigliosa e che porta nei suoi corsi una precisione e una serietà e davvero sorprendenti per cui consigliatissimo grazie a tutti grazie a tutti